ok vediamo un po' apri grande 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 faccio fare dei piccoli movimenti gira tutto da questa parte ok tutto da questa parte si sta svegliando eccomi sono di nuovo io la dottoressa Ferry come si sente? ha dormito quasi tutto il giorno si mi hanno chiamata per dirmi che anche oggi non si sentiva molto bene certamente il riposo aiuta moltissimo che sintomi ha avuto? ho capito quindi sempre mal di gola che mal di testa e dolori al collo questi dolori al collo sono iniziati proprio oggi adesso vediamo subito d'accordo? mentre dormiva mi sono permessa di ascoltare il suo respiro e è tutto a posto il cuore si 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 non sembrano esserci complicazioni che tenevamo l'altro giorno allora per prima cosa misuriamo la febbre va bene va bene questo è un termometro super veloce si si sta piovendo fuori ok alzi il braccio si? non si preoccupi adesso ci sono io qui ok vediamo un po' ha preso degli antipiratici per caso? ok in questo momento è bassa 37 e mezzo si mi stavano dicendo prima che a un certo punto si è alzata di molto ok quando è così può prendere tranquillamente degli antipiratici va bene? si si posso prescriverli io senza problemi vorrei vedere un attimo la sua gola le sue dozzille va bene? d'accordo allora possiamo darci del tuo? benissimo allora lingua passata perfetto 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 ahhh ahhh apri grande 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 ok si è ancora un po' rossato ma per questo ma per questo possiamo prendere anche delle pastiglie no non c'è bisogno di una prescrizione tra l'altro credo di averne qualcuna qui un ottimo che controllo il mio borsetto adesso ecco le due ecco le due queste sono al gusto fracola ecco le due ecco le due ecco le due anno allora adesso valutiamo un attimo questo discorso del collo mi dicevi che appunto sentivi un fastidio qui nella zona della cervicale ma hai rigiditato il collo per caso? senso di stupore? no? va bene allora vediamo un po' faccio fare dei piccoli movimenti gira tutto da questa parte ok tutto da questa parte inclina il capo dall'altra parte fa male? quando il clini da questa parte non ho capito in avanti ok perfetto e indietro solleva 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 ma non c'hai rigidità va benissimo hai avuto giramenti di testa? ma solitamente soffri di cervicale perché mi sembra di ricordare che avevi avuto qualche problemino di questo tipo anche l'anno scorso ti capita molto spesso? va bene allora ti prescriverò una pomada a base di arnica che ti aiuterà tantissimo da applicare localmente al momento del bisogno intanto intanto posso applicartene un po' in questo momento per darti sollievo e anche fare un piccolo massaggio va bene va bene? d'accordo cerca di rilassarti il più possibile così i muscoli si scioglieranno piano piano va bene va bene si si ecco qua è non è non non è è allora questo è un prodotto totalmente naturale ti prescriverò anche qualcosa di un po' più forte ma tu cerca di iniziare con questo va bene? se poi non dovessi avere grandi benefici ma sono sicura che li avrai allora magari inizierai con il farmaco ok 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 scelmiamo bene tutti i muscoli delle spalle ok ok di l'asma, di l'asma come profumo, era? Ok, come va? Molto meglio vero? Eh sì, guarda, capisco perfettamente come ti senti, in questo periodo poi c'è un bel po' di psicosi diffuso, ma l'importante è prendere le giuste precauzioni, vedrai non ti accadrà assolutamente nulla di male, qualche giorno di riposo e ti rimetterai in piedi, più forte di prima Sì sì, assolutamente, te lo garantisco Allora, adesso vorrei un ottimo valutare quella piccola ferita che avevi lì sulla spalla, è quasi del tutto guarita Sì, ho visto, però diciamo che magari adesso avendo massaggiato un po' la zona, dobbiamo riapplicare la garza Ok Sì, ci ho fatto un attimo Allora Quando l'hai cambiato l'ultima volta? Benissimo E stai applicando anche il farmaco, come ti ho detto Ok Ottimo Allora, sì, questa puoi rimuoverla Ok Adesso andiamo a disinfettare Ok Sì, sì, sì. Sposta leggermente qui Ok Benissimo, benissimo Perfetto Brucia? No, infatti Non ti ho detto la ferita è praticamente pulita Ah, perfetto Allora, adesso cambiamo la canza Solleva il menta Oh, addio Bene Abbiamo finito Che cosa c'è rimasto quindi? Ah, giusto La soluzione nasale Non l'ho dimenticata Allora Beh La tua era questa se non sbaglio Sì, sì Com'è? No Credo che sia meglio continuare Con questa Ci eravamo trovati bene Quante volte al giorno fai questi lavaggi? Va bene, va benissimo, sì Secondo me Puoi passare anche a tre volte al giorno Allora 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 Siamo pronti? Ok, testa indietro e là! Molto 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 bene Ok, adesso ti prescrivo i farmaci e insomma le varie pomadine e tutto quello che dovrei prendere Io ci ritrovo un attimo le mie mani Hai la possibilità di stare sempre a casa con qualcuno in questi giorni? Comunque per qualsiasi esigenza hai il mio numero memorizzato Non esitare a chiamarmi, mi raccomando Allora, effettuiamo la prescrizione Io ti consiglio comunque di non uscire per qualche altro giorno Se per caso dovessi proprio uscire, copriti bene, indossare qualcosa che possa proteggerti il collo Una sciarpa magari Non importa se fa più caldo del solito E ovviamente una mascherina Per non contagiare gli altri, certamente Ok? Allora Ok? 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 pronti ancora c'è anche l'idea dell'idea che adesso ho avuto più 3 volte al dì per la gola hanno belle pastiglie che ti ho dato prima puoi sceglierle al gusto che preferisci naturalmente ci sono tanti gusti fra gola, limone, arancia, menta sì anche il miele le trovi tranquillamente in farmacia ottimo allora quindi questa è la tua ricetta puoi andare tranquillamente alla farmacia qui sotto quando appunto stare meglio adesso per il momento di consiglio di mandare qualcuno come ti dicevo hanno anche un servizio a domicilio volando quindi se non puoi scomodare nessuno puoi chiamarli e ti consegneranno tutto quanto a casa va bene? perfetto misura sempre la febbre mi raccomando e ci vediamo domani buona guarigione ciao ciao tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Ferry Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte buonanotte Grazie a tutti.